niente fiori d'arancio per serena rossi l'attrice cantante ha chiarito che non sposerà almeno per il momento lo storico compagno davide devenuto la proposta di matrimonio era arrivata qualche tempo fa in tv in diretta domenica in da zia mara venier a distanza di mesi però i preparativi di nozze non sono alla rivista di più tv serena rossi ha ammesso che per il momento deve accontentarsi dei matrimoni sul set come quello avvenuto nell'ultima fiction rai che la vede protagonista la sposa l'artista napoletana ha dichiarato al settimanale per adesso le nozze non sono in programma e ho più smesso di chiedermi se quando ci saranno ma non mi lamento davide io stiamo bene così siamo felici abbiamo un figlio meraviglioso in fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni in questo periodo infatti serena rossi sta girando la seconda stagione di mina settembre con giuseppe zeno le riprese andranno avanti fino a primavera secondo gli ultimi gossip però la rossi sarà presente anche al festival di sanremo 2022 pare sia in lizza per affiancare amadeus in una delle cinque serate della kermess musicale serena rossi e davide devenuto si sono conosciuti sul set di un posto al sole popolare soap opera di rai tre che ha lanciato la carriera di entrambi per sei anni i due hanno lavorato insieme ma non è successo nulla all'epoca serena era fidanzata con un'altra persona e davide le sembrava troppo grande l'attore ha 13 anni più della rossi quando l'attrice ha lasciato upas nel 2008 qualcosa è cambiato e la storia con devenuto ha spiccato il volo in tanti anni di relazione non sono mancate le crisi e gli allontanamenti l'ultima è stata parecchio lunga serena e davide sono stati lontani per oltre un anno prima di tornare ad essere a tutti gli effetti una cosa l'ultima crisi è stata però decisiva per dare una svolta al rapporto la rossi e devenuto hanno capito di non poter fare a meno l'uno dell'altro e hanno così messo su famiglia nel 2016 è nato il piccolo diego e successivamente serena e davide hanno acquistato una casa a roma città dove vivono per esigenze lavorative